E' stato proprio un bisogno di ritrovare qui, ecco, anche un'unità culturale forse, che in quegli anni un po' mi mancava. Per severare si compie nel 94, ma già il primo brano è del 92. Avevo forse bisogno di sentire un altro tipo di unità identitaria in un paese che sì, stava riscoprendo delle pulsioni importanti sicuramente, ma di cui vedevo anche un grande rischio, insomma, quella di perdere quella capacità di comunicare, di comunicarsi, che appunto, come dicevamo prima, per altre questioni, aveva creato poi questa straordinaria sinfonia culturale, questa miscidanza, appunto, poi rappresentata già, basta dire, 1500 dialetti storicamente certificati. Sì, quando lo racconti all'estero, insomma, sono quei numeri, come dire, risolti di zio Paperone, a volte non riesci neanche a contenerli mentalmente. Ma io, insomma, quando lavoravo in Sud America provavo a cercare di far capire, insomma, a tanti discendenti, anche di italiani, in Argentina, cosa significasse per noi cercare di... perché, una volta mi disse il direttore dell'Istituto del Commercio Estero a Buenos Aires, perché in Argentina non si parla italiano, con il 65% dei cognomi italiani, perché il calabrese, che vava assieme al Veneto, se dovevano discutere da un marciapiede all'altro, non potevano farlo in italiano, perché avrebbero discusso, uno in calabrese, uno in Veneto, non si sarebbero mai capiti. E quindi preferivano farlo con quel po' di spagnolo, che magari avevano imparato da due mesi, che non in un italiano che non conoscevano. Ecco perché, per esempio, in Argentina non si parla italiano. Il 65% dei cognomi sono italiani. Quindi questo ci dice, no, che cos'è anche l'italiano, che razza di sogno meraviglioso, ma, dal mio punto di vista, continua a essere un sogno, che possiamo aggiornare, che possiamo arricchire, che adesso si arricchisce con gli italiani parlati da coloro che arrivano, magari dall'estero, e si trovano a parlare un italiano che non è loro, ma che è uno degli italiani di oggi, o uno dei tanti possibili italiani, perché c'è anche questa dimensione con cui l'inglese, il francese, lo spagnolo si sono confrontati molto prima. Noi l'abbiamo scoperta da una trentina d'anni, ma c'è un'elasticità della lingua, che non dico sia bella o brutta, ma è un dato di fatto. Allora cosa intendiamo con lingua? Che creatura, intendiamo una creatura, anche qui, un'astrazione intellettuale, o intendiamo la realtà cogente di una necessità comunicativa che respira, che pulsa, che vive dei bisogni quotidiani degli esseri umani. Ecco, quindi ci stiamo riaprendo, anzi forse, da una parte, sì, purtroppo stanno scomparendo tante identità subnazionali, ma stanno arrivando tante identità di nuovi italiani, anche dall'estero, che possono arricchire il panorama presente-futuro. Quindi anche questa è una possibilità evolutiva, piaccia o non piaccia, ma per esempio certe, che adesso non la voglio fare lunga, ma più di quanto già non stia facendo, ma voglio dire certe cose che inventano gli stranieri. Mi ricordo un regista franco-portoghese, che per dire che lui andava e tornava dal centro cittadino alla periferia, diceva, l'ando e riando, sarà una misoretta. Ecco, io ando e riando, ma neanche se tu, dici, guarda Matteo, ferma tutto, per un mese ti do i soldi che vuoi, mi scrivi una cosa, mi scrivi una serie di... sono cose che a noi non vengono in mente. Al madrelingua è difficile che vengano in mente delle... sì, certo, c'è tutto un gioco, chiaramente, di elaborazione che possiamo fare bene, però sono forme spontanee, sorgive, di sempre definite errori, ma in realtà sono forme espressionistiche, insomma, di una lingua che non esiste, ma esiste in quel momento nella necessità espressiva della persona, che io trovo geniali. O certi cosiddetti errori dei bambini, ma sono delle cose strepitose, strepitose. O le metafore del futurismo, per esempio, dello sperimentalismo grafico. Eccolo, sei un conduttore tragicamente perfetto, uno cerca di dimenticarsi, sei implacabile, sei proprio un musicista, lascia che te lo dico, un senso del timing. Vabbè, hai ragione, facciamo i compiti. Allora ti lascio, ti lascio campolino. No, perché mi era venuto in mente un altro discorso, ma meno male mi ha interrotto, meno male. Ma lo facciamo dopo, tanto possiamo... Io non male, ma interrotto, che se no, sì, ciao. Grazie, grazie. Bene. Di Filippo Tommaso Marinetti, Sperimentalismo Grafico. In differenza di due rotondità sospese, sole più pallone frenati, fiume giganti, fiume giganti, fiume giganti, culoni di fuooool, spirali di scintille, villaggi turchi incendiati, grande tuff. Concevante d'un monoplano bulgaro, più neve di manifesti, facciamo la guerra del governo urbano, incapace di governare convenientemente, noi non siamo contro la... Wow, la metafora prende vita. Faticavo, in questo caso faticavo a rimanere nell'inquadratura, ma insomma il potere espansivo della iconicità di Filippo Tommaso Marinetti insomma prenderebbe la mano a chiunque, per cui... Ti ho sentito tra l'altro utilizzare un tuo... Guarda, dire cavallo di battaglia è fin riduttivo rispetto a tutto quello che fai, però in tanti ti identificano con il suono multifonico, diciamo, un po' per fisiologia, fino a qualche tempo fa si poteva dire così, adesso come dicevamo in una chiacchiera, qualche ora dietro insomma non è solo figlio di una fisiologia particolare, questo tipo di suono, perché con i nuovi esperimenti didattici si riesce appunto a estrarlo o comunque a farlo estrarre anche dalle ugole dei nostri... di persone che non hanno fisiologicamente una predisposizione per farlo, chiamiamola così. Sì, si parla tanto appunto di questo sulcus, se non ti ho interrotto che forse stavi dicendo qualcos'altro. No, guarda, volevo solo terminare dicendo questo, dicendo che questo multifonico che tu hai utilizzato, nella sua accezione diciamo risonanziale, infernale, mettiamola così, no? E che poi ci porta anche a... ci porta fino, credo, al convegno che ci sarà a Ravenna, no? Sì, senz'altro. Sì, 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 no? Dove terrò un intervento dal titolo Risonanze e dagli inferi e allora ho pensato di dedicare questa riflessione che comporrò per Ravenna e quindi anche lì non priva di momenti esemplificativi, ha la dimensione, la latitudine inferica che mi ha dato la possibilità di incontrare voci dal sottosuolo, potremmo dire, molto particolari, chiaramente, ma anche estreme, come si dice. Ora, ecco, perché queste voci? Perché l'incontro con quello che facciamo? Io credo che, a costo di ripetermi, ma tanto ci sono abituato, la tecnica da sola muoia di freddo. Quello che dobbiamo cercare di sviluppare è un perché, nel senso, viverlo, ascoltarlo, non è detto che lo troviamo subito, non è detto che abbiamo un perché fare certe cose. Tutti quanti noi, variamente giocherelloni, non soli maschi, perché poi nel mondo della performance troviamo anche tante fanciulle, molto giocherellone, sappiamo che basta prendere tre maschi italiani che non abbiano mai visto una partita di calcio in un autogrill, in un'area di servizio, far rimbalzare un pallone a 300 metri di distanza e questi si metteranno subito a giocare fra di loro. Il maschio è proprio, poi, italiano, sappiamo che è giocherellone per definizione, insomma, tende a, infatti, a parte gli scherzi, veramente più di una fidanzata, anche magari mia allieva, dopo che il ragazzo aveva imparato a fare certe cose, veniva da me e mi diceva o lo fai smettere tu o ci penso io, perché chiaramente tu lo sai, insomma, da ricercatore, da musicista, da performer, da cantante, quando ci fissiamo su certe cose poi diventiamo pesanti, insomma, se conviviamo con qualcuno, ecco. quindi questa dimensione è spontanea, è anche bella, è divertente, è appunto umana, però, ecco, lo dico soprattutto a chi magari si avventura nella ricerca di voci delicate, particolari, cioè cosa abbiamo bisogno di dire, perché è vero che è bello scoprire certe possibilità, non so immaginare il chitarrista che si senta più libero, il pianista, il batterista e via discorrendo, ma il punto è questo, perché, a cosa ci servono? Perché poi, passata la libido iniziale del, appunto, del giochino, se poi non troviamo un perché interpretativo utilizzare certe cose, il gioco non solo rischia di farsi arido, ma rischia, al contrario, di impoverire un po' tutto il nostro rapporto con il linguaggio che pratichiamo. E lo so perché più volte c'è chi ha letto anche qualche mio lavoro in chiave virtuosistica. evidentemente non ero stato in grado di comunicare che per me era un mezzo per raccontare qualcos'altro, perché magari non coglieva il mio bisogno ecco, di enucleare quelle immagini, di farle vivere, di farle sviluppare. ora, è vero, io mi sono trovato, senza saperlo, un'alterazione, menomazione della mucosa cordale, del cosiddetto cover, con questo sulcus, che poi all'inizio con le vecchie strumentazioni, i vecchi video laringos, stroboscopi, non era neanche poi così evidente come poi l'ho diventato dopo. ho lavorato continuando tuttora a prendere lezioni di canto con il mio maestro Miguel Angel Curti, al quale dovrò sempre, tutta la vita, una gratitudine che cresce di giorno in giorno per avermi donato, per donarmi la grande possibilità della tradizione belcantistica nel tradurre principi e quindi prassi, pratiche attraverso i vocalizzi di quello che io oggi chiamo bel parlato, ma che non è altro come il mio metodo nel metodo non è altro che una traduzione della prassi belcantistica dedicata alla voce parlata e quindi alla voce per attore e non solo. Ecco, tutto questo è vero che poi uno si trova una possibilità e quindi dici ma sulcus insomma potrebbe essere anche quello che si dice un problema lavoriamo perché vorrei avere i miei pianissimo come dire il più possibile come diceva Toscanini piano sì purché si senta sonori perché non dimentichiamoci che facciamo sempre musica io cerco umilmente nel mio piccolo di fare musica col parlato e ognuno lo fa a modo suo ma anche il cuoco nell'accostamento armonico dei sapori fa musica il pittore nell'accostamento dei colori fa musica in un certo senso anche l'organizzatore del personale quando un gruppo di lavoro funziona in un certo modo in modo ritmico in modo armonico vedi sono tutti concetti musicali una società dovrebbe essere musicale per funzionare bene e via discorrendo vabbè dal condominio in poi a proposito dopo ti dico la mia ricetta per risolvere il problema Italia anzi te lo dico subito un coro in ogni condominio ecco così abbiamo ci siamo tolto il pensiero in ogni condominio in ogni fabbrica in ogni scuola avremo risolto tantissimi problemi di una società non tutti ma molti ora ecco vediamo la dimensione musicale benissimo allora dimensione musicale beh ecco come facciamo per fare musica e non fare soltanto il ghiribizzo fino a se stesso allora tu scopri davvero questa cosa poi però ti metti al lavoro e la studi l'analizzi e poi se sei fatto in un certo modo hai bisogno di andare a vedere cosa c'è dentro questo giocattolo che non potrai mai rompere perché si tratta di te stesso siamo strumentisti del nostro strumento e quindi vai a cercare il maestro il grande maestro dei giochi inizialmente il foniatra il professor Franco Fussi poi altri come altri amici come Alfonso Borregan Andrea Ricci Maccarini persone che mi hanno aiutato moltissimo in questo cammino e cominci a farti delle domande e ti vengono dette delle cose preziosissime che tu non avresti mai immaginato perfetto e poi però la cosa non ti basta e dici ma perché me le devo tenere per me bello brutta che sia non importa perché perché questo vabbè ho questa caratteristica sì però voglio provare a condividere anche con chi una certa caratteristica fisica non ce l'ha e vediamo magari non lo dimostrerò io che ho comunque questo questo piccolo sulcus bilaterale che mi tornerò tutta la vita è benissimo ma chi non ce l'ha perché non può a dire utilizzare certe possibilità espressive e allora quando vedi che certi suoni cominciano a venire anche ad altre persone al di là della gioia intima molto materna dico io perché la mia componente didattica riscatta in me la parte più materna l'attore riscatta il figlio la didattica riscatta la madre che in me la regia riscatta il padre e l'autore riscatta il feto e quindi quando scrivo sono tutto proiettato al futuro è una cosa molto bella che ti solleva anche un po' da qualche ansia ma insomma perché questa cosa non può e allora ecco che vedremo in questo piccolo micro percorso in cui cercherò di raccontare tre modi apparentemente molto simili ma anche diversi di affrontare di dire qualcosa utilizzando la multifonia a un certo punto ci sarà un passaggio che riguarda anche un momento che mi gettò una piccola un piccolo spiraglio di luce su come un personaggio proprio un personaggio che in questo caso era anche una persona realmente esistente come dirò che mi fece capire come ecco anche una cosa un po' misteriosa e appunto che si pensava fosse possibile solo in presenza di un'anomalia anatomica fosse cominciasse a poter essere condivisibile anche con persone che questa anomalia non ce l'hanno allora ti lascio tutta la scena grazie beh uno dei primi utilizzi non primissimo dopo vedremo il primissimo ma uno dei primi utilizzi di questa possibilità multifonica fu col personaggio della Sibilla la guida che conduce Enea negli inferi del sesto libro dell'Eneide che è un personaggio che io feci parlare faccio parlare con molte voci l'antro della Sibilla è un passaggio militare a Cuma con molte feritoie molte finestre da cui ecco io immaginavo entrassero potessero entrare tutte le voci del mondo e la Sibilla è un po' questa incarnazione questa spugna polifonica capace di recepire potenzialmente tutte le voci del mondo e restituirle in modo anche potentemente espressivo a seconda di quello che dice qui sta parlando con Palinuro e dice perché ti lamenti Palinuro è un insepolto vive il dramma di colui che non è stato sepolto e vorrebbe che Enea finalmente gli gettasse un po' di terra addosso per placare questa l'angoscia della sua anima che vive questa impossibilità di trovare pace proprio perché non sepolto e qui il congedo da Palinuro con la Sibilla che fa riferimento alla comunità la città in cui lui arriva dai cui abitanti verrà verrà ucciso comunità prima che diventi città quindi c'è questa idea di appunto di gruppo umano che prima è stato il gruppo che ha ucciso gli assassini di Palinuro ma poi la Sibilla gli dice i tuoi assassini sconvolti da prodigi celesti nelle loro città consacreranno le tue ossa e innalzeranno un grande sepolcro e al grande sepolcro verranno portando offerte solenni in eterno quel luogo porterà il tuo nome un linuro ma dalla Sibilla del sesto libro dell'Eneide del maestro Virgilio arriviamo tra virgolette all'allievo Dante che sappiamo viene accompagnato fino al trentesimo canto del purgatorio da Virgilio nel momento in cui ecco io utilizzai per la prima volta anzi diciamo che la scoperta se così possiamo dire del multifonico è profondamente debitrice all'incontro con Paolo e Francesca a me mancava profondamente che i due innamorati per eccellenza i due amanti Paolo e Francesca figura dell'amore universale tanto che all'inferno sono condannati a essere sbattuti dalla tempesta infernale uniti insieme uno attaccato all'altro fisicamente a me mancava il fatto che mancava la voce dell'altro ecco la voce di Paolo il fatto che si pensasse che parla solo Francesca e allora prendendo un attimo prendendoci un attimo da prima che Paolo e Francesca prendano la parola a un certo punto nel quinto canto dell'inferno Dante dice a Virgilio e cominciai poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion si al vento a essere leggeri ed egli a me vedrani quando saranno più presso a noi e tu a loro li priega per quell'amor che i mena e dei verranno si tosto come il vento a noi li piega mossi la voce oh anime affannate venite a noi parlar s'altri non niega quali colombe dal disio chiamate con l'ali alzate ferme al dolce nido venion per l'aere dal voler portate cotali uscir della schiera oveddido a noi venendo per l'aere maligno si forte fu l'affettuoso grido animale grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso noi che tignemmo il mondo di sanguigno se fosse amico il re dell'universo noi pregheremmo lui della tua pace poi cai pietà del nostro mal perverso di quel che udire che parlar vi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa si tace si si della terra dove nata fui sulla marina dove il po' discende per aver pace cose cose guaci suoi amore dal cor gentil ratto saprende prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende amor canullo amato amar perdona mi prese del costui piacersi forte che come fedi ancor non m'abbandona amor condusse noi ad una morte cain attende chi a vita ci spense e dopo le due voci di paolo e francesca quindi la possibilità di far risuonare il multifronico o diplofonico in questo caso come l'incontro anche tra il maschile e il femminile principio yin e yang dell'energia oltre che la luce e le tenebre l'alto e il basso ecco che in un altro tipo di inferno un inferno orizzontale come dico sempre nel racconto del più grande cidio di civili della storia della seconda guerra mondiale europea la strage di Marzabotto scritta assieme a Carlo lucarelli mi venne incontro un personaggio una sopravvissuta una testimone di uno degli atti più efferati che in quell'ecidio si compirono 770 morti ammazzati quasi tutte donne vecchie bambini è un personaggio è una donna una donna che racconta con una ferita che io ho cercato di far risuonare ma che non riuscirò mai chiaramente nemmeno a immaginare a immaginare di poter contenere e quindi nel dolore nel dolore di dare voci a queste voci dello strazio dell'inconcepibile che raccontavano cose che non riusciamo neanche a contenere spesso non solo nella 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 capacità emozionale ma anche nel perimetro morale ecco di una coscienza che si magari abbia anche studiato un po' di storia ma che davanti a certi a certi episodi non smette 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 di anche di cercare di comprendere francamente ecco uno di questi personaggi questa donna che racconta questa scoperta atroce della famiglia del marito a un certo punto diceva io non c'ero là dentro quanto hanno ammazzato però non posso dimenticare l'orrore di quanto siamo arrivati e di quanto siamo andati su per seppellirli perché mia suocera era cavalzoni di una finestra che un maiale ci mangiava la testa perché io oltre i miei ho anche sette cognati e la suocera morti lassù dentro e uno aveva 22 giorni e abbiamo trovato solo la cuscina di penne le penne sparpagliate sopra i morti e basta e il bimbo non si è riusciti a vederlo non l'ho mai raccontato lo racconto adesso e io oltre che per i motivi più immaginabili non finirò mai di ringraziare questo personaggio che nasce da una persona esistente per avermi insegnato che forse questo nel racconto di una ferita atroce come questa c'è anche la possibilità di far incontrare questi due estremi l'alto e il basso la luce e le tenebre il maschile e il femminile in una sorta di ricomposizione zen forse tra yin e yang tra opposti nel tentativo di cercare un'armonia ed ecco che come dico oggi ai ragazzi che si avvicinano a queste cose il multifonico forse lo possiamo anche incontrare come fusione tra frai quindi voce grave con la corda massimamente corta che innesca una subarmonica che l'aggrava ulteriormente facendo risuonare una nota un'ottava sotto la fondamentale l'incontro di questo frai quindi con tutta la sua gravità con il falsetto la leggerezza del falsetto la vibrazione del solo bordo libero ecco che forse l'incontro in questa ferita può cercare di trovare una nuova possibilità armonica prima di tutto dentro di noi Matteo grazie perché in pochissimi minuti non soltanto ci hai illustrato il multifonico ma ci hai fatto vedere proprio quello con cui hai esordito cioè la tecnica deve essere al servizio dell'interpretazione e al servizio dell'immedesimazione non viceversa perché se no abbiamo abbiamo dei abbiamo monologhi spenti abbiamo abbiamo recitazioni fredde quindi poi facciamo diventare tutto arido come dicevi un attimo fa ciao